Il cuore mi batteva, non chiederti perché, il tempo l'è passato, ma stava ancora qua, e oggi come allora, difendo la città, ale, 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 ale. Il cuore mi batteva, non chiederti perché, il tempo l'è passato, ma non chiederti perché, il tempo l'è passato, ma non chiederti perché, il tempo l'è passato. Il tempo l'è passato, è una grandissima città, prima di essere una grande squadra, giocare a Napoli, è il top. Sono molto contento, io, di giocare a Napoli. Per me è uguale, sinceramente, è inspiegabile. Io sono arrivato dall'Africa, come avevo detto prima, in tre anni sto giocando, nel Napoli gioco la Champions League. Quindi, ho lavorato tanto, ho fatto tante semplifici, sicuramente, però, non riesci a spiegare, sinceramente, perché è una cosa straordinaria. Il primo consiglio che posso dare ai ragazzi della mia età, o più giovani, prima di tutto, è il lavoro. Il lavorare, ascoltare l'allenatore, ascoltare i consigli dei più grandi. Il lavoro, il lavoro, il lavoro, il lavoro... Grazie.